Bella a tutti Orchetti sino Orcuverde, in questo video volevo informarvi che sono stati appena scoperti nuovi leak nei file di gioco di Red Dead Online di Rockstar Games che sono collegati a leak sulla possibilità di vendere cavalli del video che ho caricato nel canale il 21 settembre 2021 che se non avete ancora visto vi invito ad andare a guardarlo, lascerò il link di quel video nella descrizione di questo video questa sarebbe l'immagine del leak che vi ho mostrato in quel video sulla possibilità di vendere cavalli nella frontiera Allora Orchetti, poco fa uno dei leakers più affidabili della community di Red Dead Online ha pubblicato due immagini La prima immagine è questa, contenenti delle stringhe presenti nei file di gioco di Red Dead Online con scritto Item che significa articolo, Shop che significa negozio poi le tre lettere a destra indicano le varie città presenti in Red Dead Online poi a destra ancora Orse che significa cavallo oppure Wagon che significa carro poi Fence che significa recinto, MP che significa multiplayer e poi ancora Item ovvero articolo sicché calcolando tutto ciò questi leak potrebbero riguardare dei recinti da poter acquistare in Red Dead Online Mentre la seconda immagine pubblicata dai leakers è questa, contenente diversi codici di diverse frasi inerenti alle emissioni sulla vendita dei cavalli in Red Dead Online Le frasi in italiano sono queste Il l'osco mercante dell'Emerald Ranch compra cavalli frusciati e tiene una scorta di documenti falsi Il l'osco mercante di Saint-Denis compra cavalli frusciati e tiene una scorta di documenti falsi Acquista documenti falsi un dollaro Il commerciante della stazione commerciale di Van Horn acquisterà cavalli rubati e potrà fornire documenti falsi L'acquirente di Rhodes è desideroso di procurare cavalli rubati e può fornirti documenti falsi a pagamento A Manzanita Post il commerciante fornirà documenti falsi e comprerà cavalli rubati A Benedict Point questo acquirente è sempre alla ricerca di cavalli rubati e venderà documenti falsi al ladro Non puoi possedere più documenti falsi Tra le capanne di Butcher Creek questo compratore è fin troppo entusiasto di comprare cavalli rubati e venderà documenti falsi Visita l'acquirente a Lagras per vendere cavalli rubati e acquistare documenti falsi L'acquirente di Cornwall, Kerosene e Tar falsifica documenti per cavalli rubati e comprerà felicemente gli animali da te Questo commerciante di Valentine ha una scorta di documenti falsi e ti toglierà di mano i cavalli rubati Il commerciante qui a Strawberry comprerà cavalli rubati e fornirà documenti falsi a pagamento Il commerciante qui a Blackwater comprerà cavalli rubati e fornirà documenti falsi a pagamento Ed infine atto dei cavalli forgiati Alcune parole potrebbero cambiare con la traduzione di Rockstar Games Ma comunque le frasi saranno sempre queste Quando questi nuovi contenuti verranno rilasciati su Red Dead Online E niente Orchetti Come sempre se ci saranno altre notizie, novità, leak e informazioni ve le porterò sul canale Prima di terminare il video come sempre vi invito tutti quanti a seguire la playlist dei glitch di Red Dead Online Presente nelle playlist del mio canale In quanto ci sono ancora un sacco di glitch e money glitch ancora funzionanti Che ho caricato in questi giorni e recentemente sul canale Che potrebbero esservi davvero molto molto utili Quindi niente Orchetti io spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate un bel pollicione in su Commentate e condividete Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per diventare un Orchetto In più seguite i miei suoi social Trovate tutti i link dei miei social nella descrizione E da Orchoverd Tutto noi ci vediamo al prossimo video Bella